Monte dei Paschi vola in borsa dopo la notizia dell'ingresso nella compagine societaria del Tesoro, che di fatto chiude la strada ad ogni ipotesi di fallimento, ed apre probabilmente la via che sembra sempre più obbligata, vista le difficoltà del gruppo a pagare anche solo gli interessi sul debito, di un'aggregazione se non una fusione con altre banche italiane e straniere. In sostanza MPS, che ha accumulato 5,3 miliardi di perdite, ha pagato con azioni al Tesoro la cedola da 240 milioni di interessi in scadenza sui Montibond, emessi a garanzia del debito dell'istituto, che dopo il riacquisto dell'anno passato ammontano oggi ancora un miliardo di euro. La notizia è stata accolta positivamente non solo dalla borsa, ecco come l'ha commentata già Maria Gross Pietro, presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo. Banche deboli non sono mai una buona cosa per l'economia, quindi una soluzione che veda un attento monitoraggio anche da parte delle autorità e dei regolatori ha certamente degli elementi positivi. Il Tesoro quindi diventa azionista al 10% della banca senese. Quanto a un possibile interesse di intesa all'acquisizione di quote MPS, ecco la risposta. Non abbiamo interesse e forse non ci sarebbe neppure consentito di crescere. Gross Pietro ha detto di aspettarsi sorprese positive sull'economia nei prossimi mesi grazie ad una congiuntura favorevole sul fronte internazionale come quell'interno ed ha commentato anche i dati sui bilanci delle banche italiane diffusi in questi giorni che mostrano ancora elementi di debolezza del nostro sistema bancario che potrebbero ostacolare la ripresa. Le pulizie nei bilanci sono rese necessarie dal peso delle sofferenze che a loro volta sono l'effetto degli anni veramente pesanti che hanno attraversato le imprese italiane. Noi speriamo che la situazione sia destinata a migliorare qualche segno in questa direzione lo abbiamo già visto non ci nascondiamo che le imprese che hanno attraversato diversi anni di difficoltà richiederanno del tempo per rimettersi in carreggiata. Per noi però è importante selezionare bene il credito verso le imprese che sono in grado di aumentare le esportazioni e comunque in generale il fatturato e quindi di provocare una crescita generale dell'economia.